abbiamo percorso insieme una buona parte del volume 1 abbiamo ritrovato i passi che gesù ha effettuato il suo operare nell'animo di luisa la sua purificazione l'amore alla croce abbiamo individuato una prima parte il vuoto e la purificazione distacco umiltà non più pensare al passato rettezza di intenzione carità sopra ogni cosa poi la mortificazione e limitazione di gesù adesso ci troviamo in questa terza parte dove gesù chiede a luisa una grande prova di fedeltà nel caso specifico di luisa la mette proprio nella battaglia lascia che sia provata dall'emico infernale nel caso dell'anima sa gesù qual è la prova che ha in servo per ciascuno di noi grande piccina ma c'è anche per ciascuno di noi una piccola prova ci sono anche detti che non dobbiamo dimostrare o superare una prova per poter vivere nel vivo in volere no questo è già stato fatto luisa la capostipite di questa missione nel nostro caso la prova è credere avere fiducia e accettare quello che gesù vuol fare in noi ecco ci siamo lasciati qualche ora fa con gesù che dice coraggio stati in pace sì non è che non soffrirai ti metto nelle mani del nemico farà di te un po' quello che vuole però andiamo al primo ti do tre armi luisa armi per la battaglia la prima arma e la preghiera gesù dice non t'affliggere tanto sappi che mai permetterò che ti tentino sopra le due forze se ciò permetto è per il tuo bene non mai metto le anime nelle battaglie per fare che periscano prima misuro le loro forze dono loro la mia grazia e poi le introduco gesù non ci induce in tentazione dobbiamo interpretare bene le parole del padre nostro ci introduce per il nostro bene nella prova tanto necessaria perché possiamo espandere la nostra capacità di ricevere le grazie che vuole darci come dice nostra madre santissima mi resi conto che la prova è necessaria e la bandiera che grida vittoria com'è bello poter dire tu mi hai amato io t'ho amato ma senza della prova non si può dire già mai non mai metto le anime nella battaglia per fare che periscano prima misuro le loro forze do loro la mia grazia e poi le introduco e se qualche anima precipita e perché non si tiene unita a me con la preghiera non provando più la sensibilità del mio amore vanno mendicando amore dalle creature c'era un'antica canzone che diceva cercando l'amore in tutti i posti sbagliati mentre io solo posso saziare il cuore umano e se non si lasciano guidare dalla via sicura dell'obbedienza credendo più al giudizio proprio che a chi li guida il mia vece dunque qual è la meraviglia se precipitano pertanto prima arma per la battaglia quindi quello che ti raccomando è la preghiera ancorché dovessi soffrire pene di morte mai devi tralasciare quel che sei solita fare anzi quanto più ti vedrai nel precipizio tanto più invocherai l'aiuto di chi può liberarti dice nostra madre santissima ai bambini pregate il santo rosario ogni giorno quando poi dice no oggi non ho tempo e domani neanche ma vabbè dai e subito si scivola nella tentazione nell'obbligo diciamo ma che cosa mi è successo ho abbandonato l'arma dei sacramenti del santo rosario la santa messa poi gesù da luisa un'altra arma armi sante per la battaglia l'obbedienza l'ubbedienza ti sarà guida dice di sostegno per farti giungere al porto sicuro luisa decanta l'ubbedienza nel volume 1 e dice oh prodigio della santa ubbidienza tu sei stata tutto per me quante volte mi sono trovata in contrasto con la morte tanto erano la forza dei dolori e l'ubbedienza l'ubbedienza mi ha quasi restituito la vita si è sempre benedetto il santo rosario l'ubbedienza sia tutto a gloria sua l'ubbedienza a chi ai comandamenti ai precetti della chiesa al direttore spirituale al nostro superiore nel volume 2 ancora continua l'esaltazione dell'ubbedienza e gesù definisce l'ubbedienza nel mio interno vado dicendo dice luisa ma che cos'è questa obbedienza di che cosa è formata qual è l'adimento che la sostiene e gesù mi fa sentire la sua armoniosa voce al mio udito che dice vuoi sapere che cos'è l'ubbedienza l'ubbedienza è la quintessenza dell'amore l'ubbedienza è l'amore più fino più puro più perfetto estratto dal sacrificio più doloroso qual è il distruggere se medesimo per vivere in dio l'ubbedienza essendo nobilissima e divina non ammette che l'anima nell'anima niente di umano e che non fosse suo perciò tutta la sua attenzione è distruggere nell'anima tutto ciò che non appartiene alla sua nobiltà divina qual è l'amore proprio e fatto questo poco sicura che è sta sola stenta fatica a ciò che appartiene all'anima e l'anima la fa tranquillamente riposare finalmente l'ubbedienza io sono io medesimo a cosa si riferisce qui? Fatica l'ubbedienza e lascia riposare l'anima per esempio un'ubbedienza pesantissima per Luisa era quella di scrivere scrivere tutto tutto quello che passa tra me e il nostro quante volte nell'epistolario con Santa Annibale di Francia e Luisa appena di peccato ti do l'ubbedienza non tralasciare nulla aveva capito Santa Annibale quanto era importante e per Luisa dice dai una cosa in meno una cosa di più allora in che cosa consisteva questo rapporto con l'ubbedienza Luisa sapeva che doveva scrivere scriveva qualche cosa e poi nella sua mente colloquiando con l'ubbedienza dice oh l'ubbedienza sei contento? Dai hai scritto tutto metteva, chiudeva il libro la stilo la metteva da parte e l'ubbedienza nella voce della coscienza le diceva Luisa hai scritto tutto e me dai tralasciate quella cosa le diceva Gesù Luisa hai scritto tutto? quante volte l'ubbedienza ci parla? hai adempiuto il tuo compito? hai fatto il tuo dovere? hai compiuto il sacrificio? e Luisa parla con hai ubbbedienza diventa come un guerriero un feroce guerriero che sta lì con la lama puntata eh ma con te non si può poco discutere non tralascivo Luisa hai scritto tutto? ok Luisa prende il libro e la santa ubbbedienza quel guerriero feroce vuole che non tralasci quest'altra cosa che mi ha detto Gesù appena Luisa si mette nella disposizione di adempiere l'ubbedienza che fa? L'ubbedienza si trasforma da guerriero armato da guerriero armato a mamma premurosissima che fa? che si mette a lavorare al posto di Luisa appena Luisa decide di fare l'ubbedienza sembra che l'ubbedienza si metta al posto di Luisa a fare quel lavoro insomma mi ricordo quando uno c'è da fare i compiti a casa da bambini dicono ma non mi vado a fare questo testo libero questa ricerca, questo compitino no, non voglio, non voglio poi la mamma dice no, finirei i compiti uffa, va bene appena prendi la pena e ti metti a fare ti viene la forza sembra che hai già finito e Luisa ha potenza dell'ubbedienza ti trasformi da guerriero implacabile a mamma premurosca tant'è vero che stai tu a sudare a fare il compitino al posto mio e io mi riposo beatamente nelle braccia dell'ubbedienza lui sa che conversa con la signora ubbidienza figlia mia l'ubbedienza è un muro irremovibile non cede non si può scendere a transazioni o negoziare con l'ubbedienza ha deciso che si deve compiere l'ubbedienza e non ti dà pace fino a che non lo fai e tale rende l'anima non solo ma per essere irremovibile è necessario essere forte e robusto e l'ubbedienza comunica la fortezza divina Christus factus est obedience usque ad morte Gesù ubbidiente fino alla morte e morte di croce che cos'è che fa morire Gesù sulla croce? l'ubbedienza figlio ti voglio morto e morto crocifisso l'ubbedienza è estrema l'ubbedienza comunica la fortezza divina in modo che tutte le cose innanzi alla fortezza divina che lei tiene restano deboli in modo che essa può smuovere tutto e ad essa non la può smuovere nessuno l'ubbedienza di Luisa nell'ubbedienza di Gesù e così chiediamo di ricevere l'atto anche noi della ubbidienza come arma potentissima in ogni battaglia contro il nemico infernale ma anche contro la nostra umana volontà insieme alla preghiera poi un'altra arma potentissima il coraggio quindi prima di introdurla nella battaglia Gesù dice l'ultima cosa che ti raccomando Luisa è il coraggio voglio che con intrepidezza entri nella battaglia la cosa che fa più temere un esercito nemico è il vedere il coraggio la fortezza il modo con cui sfidano le anime i più pericolosi combattimenti senza nulla temere così sono i demoni nulla più temono che un'anima coraggiosa tutta appoggiata a me con animo forte va in mezzo a loro non per essere ferita ma con risoluzione di ferirli e di sterminarli con il nemico bisogna essere implacabili mi viene in mente quello che facevamo ieri entrando negli atti dell'Antico Testamento perché nell'Antico Testamento Dio dice al suo popolo mano a mano che voi entrate in questa terra promessa incontrerete delle nazioni nemiche e voi le combatterete vi do io la forza vi do io il coraggio ma mi raccomando non scendete a patti con loro non scusate le loro donne non comprate i loro bestiame non andate a compartire i loro culti non prendete bottino con il nemico non si fa transazione tant'è vero perché Saulo venne deposto da re lui sconfisse mi pare gli amaleciti e Dio gli disse devi sconfiggere non prendere niente neanche il bottino lascia stare devono essere sterminati i nemici dell'anima i peccati capitali le sette nazioni con cui combatte il popolo di Israele nell'entrata la terra di Cana erano delle nazioni dei popoli pagani ma in attenzione rappresentano i sette peccati di capitale non c'è negoziazione con il peccato dice ma io l'ho preso il bottino diceva Saulo ma mica l'ho preso per me e per i soldati l'abbiamo offerto per il Signore gli abbiamo fatto far passare no l'obbedienza è più forte del sacrificio io non ti ho chiesto l'oblazione con il bottino dei nemici ti ho chiesto l'obbedienza di lasciare stare il bottino non si fa transazione con il nemico non si discute con il demonio tant'è vero che anche nel deserto Gesù non si mette a discutere col demonio tre parole mi dice dalla scrittura dice ma io non hai fame guarda basta che tu vuoi questo piede diventa un bel la fagnatella come te la faceva la mamma quella al burro di miele non di solo pane vive l'uomo ma da ogni parola di ogni parola che esce dalla bocca del Signore e le altre due tentazioni risposte non tenterai il Signore Dio tuo soltanto tuo Dio adorerai e nessun altro quindi sterminare i nemici col coraggio arriva la tanto sospirata ma sicura vittoria sul nemico nel volume 1 prima di arrivare a questa paginetta ci sono altre paginette in cui leggiamo come lui sa più tormentata quanto è benepatia noi arriviamo alla vittoria tramite queste armi che possiamo usare anche noi nelle nostre battaglie e lui sa qui dice mi insegnò Gesù Cristo che il mezzo più efficace per fare che l'anima resti libera da ogni vana apprezzione da ogni dubbio da ogni timore era il protestare innanzi al cielo e alla terra e agli stessi demoni di non voler offendere Dio anche a costo della propria vita di non voler consentire a qualunque tentazione del demone che è il nemico e lui se lo lasciamo in pace ti portiamo con noi sei nostra vedi come sei stata ingrata con quel Dio non c'è niente da fare perché è finita e lui sa la prima volta che passava sa poverina poi con la preghiera l'obbedienza e il coraggio imparò questo protesto imparò quasi a burlarsi del nemico ah mi volete far soffrire? sono qui di aspetto andate a prendere più bastoni così mi potete battere di aspetto che voglio dare più gloria a Dio e se ne vanno via nulla più temono che un'anima coraggiosa il protestare cioè l'affermare con protesto con giuramento dice a costo della vita non voglio offendere Dio non voglio cadere nella tentazione del demonio e questo dice questo protesto lui aveva imparato questo questo marchigegno questo trucco divino appena l'anima avverte che viene la tentazione ah il nemico si avvicina la vuole mettere nella turbazione le vuole dire che per lei è finita che non c'è speranza se può anche nell'atto della battaglia se può perché a volte nella battaglia proprio non si può avre nessun pensiero si soffre e basta ed appena che si incomincia a sentire libera ed anche nel corso della giornata facendo così l'anima non perderà tempo a pensare se ha consentito o no perché il solo ricordarsi di quel protesto che ha fatto già le restituirà la calma e se il demonio cercherà di inquietarla potrà rispondergli che se avesse avuto l'intenzione di offendere Dio non avrebbe protestato il contrario e così resterà salva da ogni timore ora questo protesto che fa Luisa questo giuramento quest'atto deciso e confermato di non voler offendere Dio nel volume 1 qui non voler offendere Dio non cedere la tentazione a costo della vita non ci sembra l'antenato il progenitore dell'atto preventivo l'atto preventivo è la stessa cosa ma l'anima non solo non vuole offendere Dio ma non vuole fare atto umano che qualsiasi anche santo anche buono con la sua umana volontà allora nel volume 1 Luisa piccolina tormentata diceva protesto di fronte a cielo e terra gli angeli santi gli stessi demoni che a costo della vita non vogliono offendere Dio a costo della vita e poi mentre veniva la battaglia io l'ho protestato quindi e lui mi dice provate e quindi poi circa 22 anni dopo 1914 nel volume 14 1922 viene fuori il protesto dice Gesù ma se io mi faccio scappare tanti atti fatti nella divina volontà come devo fare? e Gesù dice c'è l'atto preventivo e l'atto attuale l'atto preventivo è il protesto con cui l'anima al principio del giorno protesta di fronte a cielo e a terra agli stessi demni a tutte le creature che a costo della vita non vuole fare atto con la sua umana volontà allora tutto quello che Gesù sviluppa in Luisa nella dottrina nel vivere nella divina volontà già lo troviamo in embrione col suo modo di operare già nel volume 1 e questo protesto per sconfiggere il demonio è l'antenato dell'atto preventivo che forma il regno della divina volontà nell'anima sua andiamo alla quarta parte prima parte vuoto e purificazione seconda parte mortificazione imitazione di Gesù terza parte prova di fedeltà e sconfitta del nemico quarta parte imparare la via della croce inizia questo dialogo con Maria Santissima con Gesù che lui sa nel volume 1 in cui loro l'attirano dicono figlia mia vuoi aiutare il mio figlio? che pena vuoi aiutarlo? vuoi partecipare? vuoi unirti? vuoi soffrire per amor suo Luisa è riluttante all'inizio però pian pianino passo dopo passo Gesù la porta al punto infatti il primo punto a cui porta Luisa qual è? è la rassegnazione l'accettazione della croce Luisa non trova subito gioia nella croce però si rassegna è bello questo perché lo troviamo proprio nello svolgimento del suo dialogo con Gesù e di com'è l'attitudine di Luisa nei confronti della croce prima di tutto si rassegna la Vergine Santissima prese Gesù fra le braccia Gesù flagellato crocifisso deposto dalla croce si avvicinò a me piangendo e mi disse nostra Madre Santissima figlia vedi come il figlio mio è trattato degli uomini le orribili offese che commettono che non gli danno tregua guardalo come soffre ed io cercavo di guardarlo e lo vedevo tutto sangue tutto piaghe quasi trinciato ridotto ad uno stato mortale sentivo tale pena che avrò voluto morire mille e mille volte anziché vedere tanto soffrire il mio Signore e mi vergognavo delle mie piccole sofferenze la Santissima Vergine soggiunse ma sempre piangendo avvicinati a baciare le piaghe del figlio mio lui ti sceglie come vittima se tanti lo offendono tu con l'offrirti a soffrire ciò che lui soffre gli darai un ristoro intanto patire non l'accetti tu e poi Gesù le dice beh dammi un sollievo a tanti aceri di spasmi e una riparazione a tanti torti che mi si fanno ed in così dire si tolse la corona che non pareva corona ma tutto un pezzo in modo che neppure una minima particella della testa restava libera ma tutta veniva trapassata da quelle spine mentre si tolse e la corona si avvicinò a me e anche lui mi domandò se l'accettavo non l'accetti tu io mi sentivo tanto annichilita provavo tali pene per le offese che si fanno che mi sentivo spezzare il cuore e gli dissi non gli senti sì che bello dammi la croce dice signore fai di me ciò che vuoi mi rassegno la tua fiducia deve essere solo in me stati rassegnata che la rassegnazione rende l'anima luminosa fa stare a posto tutte le passioni e Luisa dopo qualche riga dice l'anima mia era pronta a fare l'ubbidienza pronta a stare nel letto dove l'ubbidienza l'aveva messa se il signore lo volesse perché avevano cominciato a sperimentare quanto era buono con me e che la vera rassegnazione sa cambiare la natura delle cose e l'amaro lo converte in dolce ecco in questo passo Luisa dietro le insistenze di Gesù e di Maria non l'accetti tu non vuoi tu aiutare mio figlio non accetti tu partecipare ai miei temi il signore fa quello che puoi poi pian piano dice ho cominciato a sperimentare che la vera rassegnazione raddolcisce anche le situazioni più amare Luisa è stata messa nel letto e soffriva pensava di starci una quarantina di giorni alla fine c'è stata quarantana e poi alla fine dirà non cambierei il mio posto per scettri e corone questo mio lettuccio è diventato il paradiso però tutto è cominciato con un atto di rassegnazione mi dicevamo l'altra volta no? ah sì due mesi fa cavate i pireni le attitudini dell'umana volontà verso la divina prima c'è la ribellione la prima attitudine positiva è la rassegnazione poi la conformità l'abbandono l'unione fino al fondo Luisa qui già si rassegna no? per capire che tutti i passi Gesù li ha fatti fare a lui come a ciascuno di noi andiamo con un'altra successiva attitudine di Luisa verso la croce si è rassegnata ha cominciato a vedere che questo frutto spinoso una volta tolte queste spine brutte alla fine si trova un frutto dolce un sapore dolce dentro la rassegnazione sa cambiare la natura delle cose imparare la via della croce primo accettazione della croce rassegnazione secondo abbracciare la croce abbandono in Gesù Luisa fa un salto dalla rassegnazione all'abbandono qualche rigo dopo infatti sempre proseguendo nel volume 1 Gesù dice non volerti affliggere per questo 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 incomprensioni da parte della famiglia calugne difficoltà tutte le vicende del volume 1 di Luisa che noi stiamo bellamente ignorando perché non ci interessano questo momento stiamo facendo il volume 1 dell'anima la mia rassegnazione il mio abbandono non volerti affliggere per questo quello che voglio da te è che ti abbandoni come morta fra le mie braccia fino a tanto che hai gli occhi aperti per guardare ciò che fu io e ciò che fanno e dicono le creature io non posso liberamente operare su di te non vuoi tu fidarti di me non sai tu il bene che ti voglio e che tutto ciò che permetto o per mezzo delle creature o anche da parte del nemico infernale o direttamente da me è per tuo vero bene non serve altro che a condurre l'anima tua a quello stato a cui l'ho elevata perciò voglio che ad occhi chiusi ti stia fra le mie braccia senza guardare o investigare questo o quell'altro fidandoti interamente di me lasciandomi operare liberamente dopo l'accettazione e rassegnazione dopo l'abbandono c'è un altro balzo in avanti che Luisa fa nel suo rapporto con la croce e che l'anima deve fare nel suo rapporto con la croce addirittura trovare contento nella croce qualche riga dopo sempre nel volume 1 si comincia a leggere l'altro sapore di contento nella croce e Luisa dice gli dicevo signore fatemi parte delle vostre peni beh potessi sollevarvi e liberarvi mentre ciò dicevo quei nemici come se avessero inteso il nemico infernale se ne venivano contro di me ma tanto arrabbiati ed incominciarono a percuotermi a tirarmi i capelli a calpestarmi io avevo tale timore soffrivo sì ma dentro di me ero contenta che vedevo dare al Signore un po' di tregua ancora qualche riga più avanti Gesù dice non chiedere niente a volte Luisa Luisa aveva pure l'obbedienza di prendere il chinino il chinino dice eh sì vabbè il chinino non mi faceva vomitare però mi dava una fame io mi pigliavo sto chinino mi veniva una fame e allora io prendevo un po' di cibo mi veniva sta fame e ne volevo ancora gli dice che devo dire alla famiglia datemi qualcosa oggi mo hai mangiato un'altra volta vuoi mangiare allora Gesù dice statti a quello che ti dà la famiglia ti danno qualche cosa prendi non ti danno niente lascia statti povera povera statti povera povera in quelle tucce e Luisa scrive la parola povera che Gesù mi aveva detto non mi farceva dire di chiedere niente e io stessa avevo vergogna di chiedere pensavo tra me che dirà la famiglia mo ha vomitato e ora vuole mangiare se me la danno qualche cosa la prendo vorrei fare l'accento di Luisa se no il Signore ci penserà così me la passavo contenta di poter offrire qualche cosa a mio caro Gesù trovare contento nella croce già l'ho detto due volte Luisa dalla resegnazione all'abbandono al contento nella croce che potenza sta croce un altro passo nell'imparare la via della croce è comprendere il valore della croce comprendere quanto vale questa croce Gesù dice a Luisa qualche rigo qualche paginetta dopo sempre nel volume 1 non sai tu che i più bei regali che posso dare alle anime che amo sono le croci e le pene tu sei bambinella ancora nella via della croce perciò ti senti troppo debole quando ti sarai fatta grande e avrai conosciuto quanto è prezioso il patire il valore della croce allora ti sentirai più forte perciò appoggia ti a me riposati che così acquisterai fortezza dopo qualche rigo Gesù continua e dice se tu sapessi che bene contiene in sé la croce come rende l'anima preziosa che gemma di inestimabile valore acquista chi ha il bene di possedere le sofferenze basta dirti solamente che venendo sulla terra non scelsi le ricchezze e i piaceri ma mie ebbia care ed intime sorelle la croce la povertà le sofferenze le ignominie l'ultimo passo nell'imparare la via della croce dalla rassegnazione all'abbandono dall'abbandono al trovare addirittura il contento il contento nella croce dal contento nella croce ad apprezzare il valore inestimabile della croce dall'apprezzare a questo valore a che cosa? a riconoscere la della croce non tutte le croci sono le croci che mi dà Dio molte delle croci sono quelle che mi do io riconoscere la vera croce è il suo scopo per esempio nel volume 11 Gesù scrive anche la croce tanto di bene può operare per quanto connesso tiene con la mia volontà ovviamente lui era stata messa in quel letto aveva queste obbedienze vera indiscutibilmente volontà divina che si manifestava attraverso il suo confessore il suo direttore a volte può capitare invece che come me che non è confinata nel letto si possa andare a cercare delle croci che in realtà Gesù non aveva nessuna intenzione di darmi andava a cercare con la mia autosità allora tutta quella preziosità quella bellezza della croce a quale croce si applica all'unica croce il gioco leggero all'unica croce che Gesù ci vuole dare non alle croci che noi a volte ci possiamo andare a cercare quindi la croce tanto di bene può operare per quanto connesso tiene con la mia volontà non solo ciò la croce santifica crocifice parte della persona ma la mia volontà non risparmia nulla santifica tutto e crocifigge i pensieri i desideri la volontà gli affetti la mia volontà non sapendo fare opere incomplete non si contenta di tre chiodi ma di tanti chiodi per quanti atti di mia volontà dispongo sulla creatura pertanto l'unica vera croce è la crocifissione della nostra umana volontà nella divina non è la sofferenza fine a se stessa è vera croce nella misura in cui è connessa alla mia volontà nel volume 15 questo lo spiega ancora meglio fuori della mia volontà l'operare il patire io non lo riconosco il soffrire fuori della mia volontà non lo riconosco che valore ha nessuno potrei dire non ho che darti qual è la volontà che ti ha animato nel fare soffrire ciò qual è la volontà che ti ha dato quella croce qual è la volontà che ti ha fatto patire la mia o la tua da quella fatti ricompensare molte volte il fare il bene il patire senza che la mia volontà entri in mezzo possono essere misere schiavitù che degenerano in passioni mentre solo il mio volere dà il vero dominio le vere virtù la vera gloria da trasmutare l'umano indivino riconoscere la propria vera croce e il suo scopo prenderla dalle mani di Gesù nel volume 1 Gesù scrive non sarà solamente per il bene delle creature che voglio queste sofferenze continue ma anche per il tuo bene in questo stato di sofferenze disposto da Gesù dalla sua volontà purificherò ben bene l'animo tuo in modo da disporti a formare con me un mistico sposalizio la vera croce che dispone Gesù per l'anima la porta all'unione intima con Gesù al mistico sposalizio e dopo questo darò l'ultima trasformazione in modo che diventeremo tutti e due come due ceri che messi sul fuoco uno si trasforma nell'altro e se ne forma uno solo così trasformerò me in te e se tu mi resterai crocifissa in me anch'io sono crocifisso in te ah non saresti tu contenta se potessi dire lo sposo crocifisso ma anche la sposa crocifissa ah sì non c'è nessuna cosa che da lui mi rende visibile ecco quindi non l'operare di Gesù nelle circostanze iniziali della vita di Luisa la attrae alla croce e prima Luisa si rassegna poi si abbandona poi addirittura inizia a trovare il contento nella croce poi riconosce la vera croce e il suo scopo passiamo adesso all'ultima parte la quinta siamo verso la fine del volume 1 già si parla di sposa lezionistico e Luisa parla di quanto si bea nel contemplare Gesù e nell'ascoltare la sua parola o mio tutto è bello Gesù se per pochi momenti che vi manifestate in questa vita comunicate tanta pace in modo che si possono soffrire i più dolorosi martiri le pene più umilianti con la più perfetta tranquillità vi sembra un misto di pace e di dolore che sarà il paradiso Luisa contempla e descrive Gesù ah sì quel volto santo mentre è così maestoso poi è anche così amabile e quell'amabilità vi attira tanto in modo che l'anima non è il minimo dubbio di essere accolta di Gesù per quanto brutta e peccatrice si vedesse poi Luisa ascolta la parola di Gesù e si bea nella sua voce la voce del mio Gesù è potentissima è operante e già nello stesso atto che parla opera ciò che dice oh quanto è desiderabile questo parlare di Gesù io per me darei tutto ciò che sta sulla terra se potessi essere padrona per avere una sola di queste parole di Gesù e infatti verso la fine del volume 1 Gesù inizia a parlare a Luisa delle sue qualità divine in particolare delle tre virtuti ologali fede speranza carità e infatti il passo successivo che Luisa riceve la sostanza della sua parola il primo frutto è fede Gesù cominciò a parlarmi della fede ora mi parlava della fede e mi lasciava io mi sentivo infondere nell'anima una vita di fede Gesù diceva poche parole nel volume come due successivo inizia con la fede è Dio per ottenere bisogna credere la fede serve di vista all'anima e come luce che la guida alla vita eterna dopo che Gesù la parla ben bene della fede inizia a parlare della speranza a che giova l'uomo credere le immense ricchezze della fede se non le spera per sé le guarderà sì ma con occhio indifferente perché sa che non sono sue ma la speranza somministra le ali alla luce della fede la fede fa credere la speranza somministra all'anima una veste di fortezza oh è bello vedere quest'anima investita della bella speranza tutta appoggiata al suo diletto tutta diffidente di sé e tutta confidente in Dio tale appunto l'anima vestita dalla speranza nessuna cosa la può nuocere né la tribolazione né la povertà né tutti i vari accidenti della vita la sgomenta in un istante dice fra sé io tutto posso operare tutto posso sopportare tutto soffrire sperando in Gesù che forma l'oggetto di tutte le mie speranze la speranza rende l'anima quasi onnipotente invincibile e somministra all'anima la perseveranza finale tanto che allora cessa di sperare e di perseverare quando ha preso possesso del regno dei cieli e il volume uno verso la fine si inizia questo tripudio delle tre virtù teologali la fede la speranza e la carità dice la fede fa credere la fede è Dio la speranza è il nutrimento della fede la carità è la sostanza di entrambi la carità è la sostanza di fede e speranza infatti dice tutte le virtù anche la fede passerà la speranza ma la carità perché Dio è carità Dio non crede in se stesso Dio non spera in se stesso ma Dio è amore quindi la fede e la speranza servono per attirarci nella carità che è la sostanza di Dio stesso di quale sostanza è questa luce della fede e questo alimento della speranza la carità alla fede e alla speranza sottentra la carità e questa congiunge tutto il resto insieme delle altre due in modo da formare una sola mentre sono tre eccoti o sposa mia dice Gesù adombrata nelle tre virtù teologali la trinità delle divine persone altissima teologia delle tre virtù teologali no? Il Luisa che sempre aveva la seconda o la terza elementare poi proseguì se la fede fa credere la speranza fa sperare la carità fa amare la carità è la sostanza di questa luce di questo alimento della fede e della speranza è come quell'unguento dolcissimo e odorosissimo che penetrando dappertutto lenisce e raddolcisce le pene della vita la carità rende dolce il patire e fa giungere anche a desiderare ma che possiede la carità spande odore dappertutto le sue opere fatte tutte per amore danno un odore graditissimo e qual è questo odore? è l'odore di Dio stesso l'odore gradito a Dio dei sacrifici dell'Antico Testamento non era il grasso bruciato degli animali ma l'odore gradito a Dio era lo spirito di carità di sacrificio con cui viene fatta quell'offerta farai questa offerta così qua il suo odore gradito a Dio quante volte lo si legge nell'Antico Testamento e l'odore della carità ecco il volume 1 si sta per concludere e c'è qui il rinnovo dello sposalizio mistico di Luisa alla presenza della Santissima Trinità e qui si fa coincidire questo è il momento in cui viene posto il germe il seme il dono della Divina Volontà come vita della Creatura la Trinità Santissima parla a Luisa e dice non temere fatti coraggio siamo venuti per confermarti per nostra e prendere possesso del tuo cuore mentre così diceva questa voce vidi che la Santissima Trinità scese nel mio cuore e si impossessarono e vi formarono la loro sede per me chi può dire il cambiamento che successe in me mi sentivo divinizzata non più io vivevo ma loro vivevano in me facendo eco a San Paolo ma non per il regime della grazia ma per il regime della vita divina operante in Luisa a me pareva che il mio corpo fosse come un'abitazione e che dentro abitasse il Dio vivente perché io mi sentivo la presenza reale sensibilmente nel mio interno di Dio interessante come diversi anni dopo nel volume 13 Gesù parla a Luisa di questo momento sono passati circa ventun'anni e dici ti ricordi quando è venuta Santissima Trinità e ha preso di mora e dice in quel momento io mi si insieme del dono nel volume 13 dicembre 5 1921 Luisa dice dimmi vita mia è la mia famiglia chi è qual è la mia e la tua dote e sorridendo ripreso la tua famiglia e la Trinità non ti ricordi nei primi anni di letto che ti condussi in cielo dinanzi alla Trinità Sacrosante facemmo la nostra unione ed essa ti dotò di tali doni che tu stessa non hai conosciuto ancora quindi la divina volontà come vita nella creatura si dispiega si fa operante nella misura in cui noi la conosciamo allora Gesù ti ha realizzato la promessa gli ha messo quel dono e poi per anni e anni e anni le va a spiegare quello che le ha dato e nella misura in cui Luisa riceve queste conoscenze le attualizza con i suoi atti si estende si forma la vita divina nell'anima sua la vita della divina volontà essa ti dotò di tali doni che tu stessa non li hai conosciuti ancora e come ti parlo del mio volere degli effetti e del valore sono scoperti i doni di cui fin da allora fosti dotata ti sto a spiegare quello che ti ho dato ti scopro ti chiarifico il dono che ho messo in te noi riferendosi alla Santissima Trinità prendemmo ti ricordi Luisa su 1921 ti ricordi quel momento quando la Santissima Trinità venne a prendere possesso dell'animatura noi prendemmo le redini della tua intelligenza del tuo cuore di tutta te e ogni cosa che tu facevi era uno sbocco della nostra volontà creatrice su di te erano conferme che il tuo volere fosse animato da un volere eterno il lavoro è già fatto non resta altro che farlo conoscere a te prima di tutto affinché tu lo possa vivere e attualizzare e poi a tutti per fare che non solo tu ma anche gli altri possano prendere parte a questi grandi doni questo è un riepilogo dei passi che Gesù fa nell'anima vuoto e purificazione mortificazione imitazione di Cristo la prova e la fortezza imparando la via della croce luce e unione con Gesù dice ma adesso che dobbiamo fare e Gesù scrive volume 2 figlia mia non volerti perdere di coraggio questo è il mio solito di operare la perfezione passo a passo cosa vuol dire che il volume 1 non è una retta è un circolo e noi siamo arrivati lì è una bella freccetta e adesso taccato quanto dura il volume 1 quanto dura la nostra vita figlia mia dice noi abbiamo fatto ma io veramente quante cose quante cose quanto siamo ancora imperfetti difettosi bruttini nella nostra vita spirituale figlia mia non volerti perdere di coraggio questo è il mio solito di operare la perfezione a passo a passo e non tutto in un istante se Gesù volesse fare tutto insieme noi non capiremmo non potremmo ricevere quello che vuol darci e l'anima si sente trasformata poco a poco e tante cose a cui teneva tanto dice adesso quello non mi importa più chissà com'è non ci penso più man mano che l'anima si addentra nelle conoscenze nelle verità della divina volontà c'è questa trasformazione graduale però impercettibile e Gesù fa in modo che sia impercettibile altrimenti l'anima ha il rischio di pensare che sta facendo qualcosa a lei e invece si trova trasformata senza che se ne accorga meno male che Gesù fa le cose piano piano passo passo un'operazione a cuore aperto con l'oppio della divina volontà figlia mia non volerti perdere di coraggio voglio dire se devi ricominciare il volume 1 da capo non ti perdere di coraggio questo è il mio solito di operare la perfezione a passo a passo e non tutto in un istante affinché l'anima vedendosi sempre in qualche cosa manchevole si spinga faccia tutti gli sforzi per raggiungere ciò che le manca al fine di più piacermi e maggiormente santificarsi sia sempre benedetto il Signore che opera la perfezione passo passo ecco questo è il ciclo del volume di 1 dell'anima che per ora abbiamo fatto poi chissà quante volte Gesù lo vorrà ripetere dentro di noi questo ciclo di purificazione restando pochi minuti possiamo ripercorrere questa è una cosa che non ci impegniamo con le facoltà diciamo dell'anima che sono tanto richiede da tante verità da tante cose che abbiamo ricevuto continuando però nelle slide possiamo seguire quello che fa Gesù con Luisa alla fine del volume 1 cioè la confessione di Luisa con Gesù e i passi che succedono nella confessione dal dolore per i peccati ecco prima ancora del dolore per i peccati l'ultimo passo è il matrimolo sposalizio della croce allora Luisa desidera tanto la croce e Gesù le fa una esaltazione della croce diletta mia vuoi tu essere bella la croce che darà i miei momenti più tempi che trovarsi possa nel cielo e nella terra tanto da innamore di Dio che contiene in sé tutte le bellezze vuoi essere tu e piena di immense rinchezze non per breve tempo ma per tutta l'eternità ebbene la croce che somministerà tutte le specie di rinchezze dai certesimi più piccoli quali sono le piccole croci alle somme più grandi quali sono le croci più pesante esaltazione della voce Gesù inizia a pregare Luisa inizia a pregare Gesù Gesù dammi dolore per i miei peccati questo può servire di campaggio per noi per prepararci alla condizione dolore Gesù già che tanto ti dispiace di avermi offeso voglio io stesso disporti a farti sentire il dolore dei tuoi peccati così vedi quanto è brutto il peccato e che acerbo dolore soffre il mio cuore perciò ripeti insieme con me questo ce lo possiamo ripetere anche a noi se passi in mare nel mare tu sei e pure non ti vedo calpesco la terra e stai sotto gli ieri peccati e poi Gesù sotto voce soggiunse quasi piangendo e pur ti amai e per lo stesso tempo ti conservai e lui si dice nelle prime parole se passo il mare nel mare tu sei calpesco la terra sei sotto i miei piedi sei dentro di me sei fuori di me sei dappertutto sei sopra sei sotto a destra sinistra mi dà la vita sei il nessuno che sto respirando e pure peccati la grandezza l'omnipresenza l'omnivegenza l'immensità l'amore di Dio e pure peccati e questo da lui senza il dolore del suo peccato e senza il Gesù che sotto voce quasi indianzando il cielo eppure ti amai non ho aperto la voragine sotto i tuoi piedi non ti ho fatto affogare con il mare mentre mi offendevi eppure ti amai e in quel stesso istante in cui tu mi uccidevi perché il peccato mi uccidevi io ti conservai se passo il mare nelle mani più stelle eppure non ti vedo che al testo la terra sei sotto i miei piedi peccati e Gesù piangendo mi porti a mare e nello stesso tempo in quello stesso istante in cui tu mi infligge la morte io ti conservai ecco qui c'è la vera propria confessione che nel buon lungo va sempre Gesù scrive dice questa volta voglio farti io stesso l'ufficio di confessore questo ovviamente è esperienza di vita mistica per tutti per noi non c'è sospituto al ministro di dio nel sacramento della professione questo chiarissimo precisazione ma non c'è ma non c'è e tu confesserai a me tutte le tue gore e nell'atto che ciò farai ti farò comprendere uno per uno i dolori che ha dato al cuore mio nell'offenda a ciò che comprendendo tu quanto può una cretura che cosa è il peccato prendi risoluzione di piuttosto morire che offendere intanto tu Gesù confessore con tanto pistola entra nel tu nulla e resce al conflitto io entrando in me stessa mi scorgevo tutta la mia miseria e le mie scerteraci e innanzi alla sua presenza tremava verga verga e mi mancava la forza di pronunciare le parole del conflitto e se il signore non mi avesse impuso nuova forza può dirmi non temere sono giudici ma sono anche tua madre coraggio andiamo avanti un po' per confessare forza andiamo avanti lo sanno e Gesù sono giudice ma sono anche padre con la fermezza misericordiosa di colui che ci conserva e ci ama nel momento non vecchiato e ci infonde il dolore dei nostri peccati andiamo avanti confessa lì sarebbe rimasta senza neppure dire una parola dopo la confessione prima ancora della soluzione che cosa c'è la risoluzione ma che cosa serve la assoluzione se confesso un peccato e non sono risoluta non cadere più quello stesso peccato quella non si chiama confessione ma si chiama Gesù la chiama burla quante volte le creature si burlano di me quando lui è stato vestito da pazzo facendomi umiliare il burlare in quel modo io riparavo a tutte le volte che la creature si burla di me quante confessioni infandate con nessuna risoluzione di non il peccato quante sacramenti infandate da parte di chi li diceva e di chi li amministra poverissimo grande sono questa prima che ho fatto presso di voi scritto in Isa queste potenze mie di intelletto memoria volontà come abbiamo visto in Adano tutte concorrono nel peccato queste potenze mie questi sensi del mio corpo l'udito la vista il gusto tutto concorre nel peccato Adano ascoltò guardò gustò dovevano essere tante lingue da cantare ah invece sono state come tante vipere delle nose che vi mordevano cercavano anche di uccidere ma padre santo perdonami non vogliate di scacciarmi per il gran corpo che ti ho fatto per tanto e Gesù risoluzione e tu prometti di non più peccare di sbandire dal tuo cuore ogni ombra di male che potrebbe offrire il tuo cretore e D'Adano Gesù non ci chiede di promettere di non peccare ci chiede di promettere di non voler peccare forse quante volte cadiamo di peccato anche in volontà nella mancanza volontà prometti di non voler peccare e io sì sì con tutto il cuore te lo prometto voglio piuttosto mille volte morire che mai più peccare mai più mai più quanto è potente il sacramento della confessione quando l'anima esalta la croce che mi ha salvato che mi inonda di misericordio si duole per i propri peccati li confessa senza pietà senza nascolore dice il Santo Padre chiamandoli per nome e cognome ho fatto questo tot tot e tot non raddolcendoli e incaricandoli di tante parole non confessandoli i peccati degli altri ma i peccati propri non lo so più a volte viene la tentazione di confessare i peccati altrimenti non fanno ma è il posto sbagliato non i peccati uomo non i peccati di tua zia stai ancora ah si con tutto il cuore me lo prometto voglio piuttosto mille volte morire che mai più mai più peccati esaltazione della luce dolore dei peccati peccati e porti a mare e nello stesso estante ti conservai confessione senza pietà abc risoluzione a non voler più peccati assoluzione e Gesù e Dio ti perdono e Dio ti perdono e ci devi credere e Dio ti perdono ed applico all'anima tua i meriti della mia passione e voglio lavare col tuo sangue il dilugio di cui parlare di Dio nel momento in cui il sacerdote ministro di Dio in persona crisi eleva la maldestra pronuncia le parole della risoluzione e ci segna con la voce si scarica il dilugio del sangue di Cristo sull'anima nostra il peccato non esiste più al suo posto che cosa c'è male di misericordia e quando mi sa all'inizio del volume uno dice ma quanto tempo ho stregato che potevo amare mi piace figlio ma tu beh io mi ricordo qualche cosa c'è qualche rancore in me sei tu che ti vuole ascitare queste cose non io pensiamo alla manica guarda dentro di te che ci trovi il peccato quel peccato io non lo so scordare guarda piuttosto il mare del mio sangue prezzosissimo ci sta e mentre così diceva alzò la benedetta destra e pronunciò le parole della soluzione quanto è bello vedere Gesù nel ministro sentire Gesù nel ministro che sia valutiente o meno che sia giovane o vecchio che sia erudito o ignorante che sia simpatico antipatria è Cristo nel santissimo saprificio della soluzione è Cristo che ci dà la soluzione che trave e mentre così diceva alzò la benedetta destra e pronunciò le parole della soluzione precise precise alle parole che dice il matisorico che anche sa che il matino sono per lui alle parole io ti assolgo il sacerdote di Gesù ti assolgo io ti assolgo perché chi sta parlando Gesù precisa le parole che dice il sacerdote quando dà la soluzione e nell'alto che ciò faceva dalla sua mano scorreva un fiù di sangue e l'anima mia ne restava tutta fino inondata il diluvio della benedetta per prepararci al diluvio della mia vita blanca dopo di ciò mi dice viene fina viene a fare la benedetta dico del cuore col baciano che mi ha la benedetta figlia che hanno ne posto più tocca le mie quali inascritti per l'addolcire scocca il tuo bacio d'amore su di essi affinché il tuo amore mi mimiti lo spasso che sento questo mio stato psicologoso è il vero ritratto in cui si trova la mia volontà in mezzo a riprendere sta in mezzo a loro ma come divisa perché facendo la loro volontà non la mia resta slogata ed impiagata dalle tre a voi perciò unisci la tua volontà alla mia e danni un ristoro al mio slogamento finalmente prima di lasciarmi mi ha detto figlia mia mi ha il dolcino mi sento le ossa al posto ma sarò tutti i cuori dolcini che riunire le mie ossa slogate ti fa riunire in sé la mia volontà Gesù ha travolto invito a Luisa a ricevere la soluzione sacramentale nella divina volontà e questo è quello che deve fare l'anno non solo per ricevere la soluzione dei suoi peccati personali ma nella divina volontà penetrando nel cuore di ogni credito impetrando la contrizione il dolore dei peccati la condressione la metanoia la redenzione di ogni credito Gesù dice all'Ulisa gira per ogni cuore di creatura e in ogni cuore di creatura grida dolore perdono dolore perdono quindi continuiamo a girare nella divina volontà anche quando siamo chiusi del confesso di che si confessiamo e riceviamo la soluzione del nostro peccato individuale nulla individuale tutto si ripercuote nella chiesa il mio peccato uccide Gesù ma fa male a tutta la comunione del corpo messico di Cristo pertanto ricevendo la soluzione della divina volontà si impetra il dolore dei peccati la contrizione la confessione la redenzione la conversione per tutte le crede anche la confessione per l'acqua e il vivere nella divina volontà non è più un fatto privato e personale è atto universale atto universale dopo la dopo la soluzione è la penitenza il settimo passo troviamo in questa confessione che si svolge al fine del volume con Gesù da confessore Gesù dice no è Luisa che dice che è un po' Luisa tutta tremendo mi alzai e baciare le sue sagratissime diaglie e poi mi disse figlia diaglia ora che hai ricevuto questa soluzione fatto per dienza stai più attenta che oggi vi do la grazia di qual è la grazia che ricevete a Luisa e poi il peccato è un po' diaglia 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 ci dice io non l'ho scritta perché questi la grazia di Luisa ti do la grazia per decore e onore della sua volontà Gesù fa a Luisa una grazia grandissima quella di non cadere più nel peccato del mio volontario peccato totale non esiste sbattito neanche quello che gli altri l'unica cosa in cui può ancora cadere Luisa per non potersene accorgere per la debolezza della sua natura è la mancanza degli anni involontari questo è rimasto a Luisa che sono le miserie le povertà dell'anima nostra che si servono a farci ancora di più nella misericordia di lui nella fiducia di lui per questo Luisa si deviva e si sentiva tanto manchere ecco qui ci sono puntini puntini perché per ogni tantissima confessione assoluzione risoluzione c'è la voce di Gesù che per ciascuno di noi per l'anima dice adesso stai attenta perché da oggi ne voglio una grazia speciale con questo sta nel segreto per l'anima di Gesù qual è questa grazia ma sicuramente c'è allora sintonizziamo le orecchie del cuore dell'anima perché Gesù sicuramente ci mette una grazia si più attenta se quello che può dire è il mondo e segua il volere del tuo Gesù perché l'attenzione ti farà conoscere dove stai e cosa fai si più attenta figami che ti muovi come un elefante in una cristalleria stai nel palazzo da te la mia volontà ti fa conoscere dove stai stai nel palazzo da te non guardare fuori al balcone guarda bene prospetta chi deve andare da fuori da un momento all'altro da qualche appartimento guarda che ci sono i tesori da te tutto a tua disposizione cammina in punta in piedi parla sotto voce stai attento aumenta la tua attenzione per avere la consapevolezza che in ogni momento tu stai e vivi dentro la mia volontà affinché tu ti possa comportare di consapevolezza che per la casa poter avere questa consapevolezza di dove siamo e che cosa facciamo vedi l'attenzione è la via della conoscenza la conoscenza cambia la persona e le cose e la dispone a ricevere grandi doni riceviamo la divina volontà nella nostra in cui la conosciamo e teniamo in noi questa consapevolezza sicché conoscendo che tu stai nella reggia della divina volontà dice Gesù non camminerai in quei stratta non strascicherai le ciabatte ma camminerai in un'altra di dieci qua quando vedi salire e guarda questi baoni che cosa ci sono tesori grandissimi sono miei sono valmessi è tutto mio qui dentro si prendi conosci sai a casa tua conoscendo che stai nella reggia della mia volontà riceverai sempre e prenderai tanto da poter dare a tutti i tuoi fratelli devo confessare mi viene il brimido quando quelle rarissime volte che esco di casa dice ah c'è questo incontro puoi fare una relazione una relazione leggevo ieri nel volume 12 il sole che abbiamo oggi qui che splende dice guardate me io sono il perfetto relatore della oh ecco sono io il relatore guardate me con un atto solo do luce a tutto fecondo abbellisco riscaldo do gioia un atto solo atto di luce sui buoni sui cattivi non mi fermo mai qualunque cosa succeda io continuo a splendere anche se sono velato dalle nuvole continuo il mio ufficio sono il perfetto relatore del vostro creatore quindi quando si cerca un relatore andiamo dal sole non invece che facciamo insieme ci riuniamo insieme siamo più di due in nome di Gesù come piccoli bambini come piccole anime come piccoli come nulla nulla dice Gesù noi nelle opere ad extra la Santissima Trinità esce fuori da settezza la Santissima Trinità che crea abbiamo bisogno di spazio di terra abbiamo bisogno di terra allora noi siamo il pugnezzo di terra che la divinità vuole usare per fare opere divine allora la mia natura è terra i nostri atti umani sono terra lo stare seduti il nostro suolo che facciamo piccola terra però nelle mani dell'agricoltore divino serve per piantare il seme divino per fare opere divine per moltiplicare vita divina quindi quando Dio opera fuori da se stesso c'è sempre una trasmissione di cielo e terra umano e divino materia e spirito corpo e anima pertanto la nostra umana volontà è terra la nostra natura è terra però questa terra vuole essere non solo illuminata dal sole ma penetra dice il sole quando sorge inizia a fare toc toc sulla terra sulla lavanda sui nostri occhi ci svegliamo e vuole penetrare trasformare in luce quindi noi stiamo parlando di una divinità che esce fuori da se stessa per mettere per ritrovare se stessa nel suo creato e lo fa attraverso che cosa? l'umana volontà come dice San Paolo tutto il creato vuole e si lamenta di dogli e di parto perché non può compiere lo scopo per cui è stato creato il sole non ha una ragione non ha una voce la creazione è veli di tante qualità divine ma dov'è la libera volontà intelligente la cosa più bella che Dio ha creato l'ha messa in mondo e dice leggevo l'altro giorno la volontà umana da sola è pericolosa è come mettere una Ferrari in mano a un bambino si va a sbattere è pericolosa ed è anche inutile o dannosa mentre se la metti nelle mie mani se mi dai quel pugnetto di terra della tua volontà io terra non ne ho dice Dio Padre noi terra dice non ne teniamo abbiamo bisogno della terra tua mi dai il nulla della tua terra allora tanti secoli e millenni di spiritualità di sforzi dell'umana volontà che attraverso le ispirazioni della grazia attraverso gli insegnamenti della chiesa si è sforzata si sforza di fare il bene e si mette i paletti e crea le regole e crea i gruppi e crea i ministeri e dice noi siamo quelli che fare noi siamo quest'ordine noi facciamo quest'altra cosa la volontà umana mi fa tenerezza nel male è brutta proprio è pericolosa ma anche nel bene fa tenerezza perché non ci riesce dove va è come è come mettere un motorino su un'autostrada sull'autostrada del sole dove va non può arrivare dovunque si sforza ma non riesce finisce la miscela si brucia il motore e allora il vivere nella divina volontà che è un decreto divino che è il dono dei doni che stiamo celebrando oggi in questa grande festa dove tutto il creato celebra insieme con noi è proprio il compimento di tutta la crescita è proprio dire adesso umana volontà tu ti sei sforzata tanto cerchi di essere obbediente ti ho illuminato con la luce della grazia ma io non ho finito qui la mia opera adesso ti devo ridare quel dono che ahimè nostro dolcissimo carissimo santo padre Adamo poverino era un po' imbranato per questo è stato perdonato un solo peccato fece Adamo un solo non peccò più quanto dice la cultura dice 900 anni 900 anni non importa adesso gli anni non peccò più quanto pianse quanto pianse pianse perché aveva perso questo dono di questa volontà divina onnipotente infinita eterna che come ti mette in moto mette in moto tutta la divinità tutte le qualità divine questa volontà divina per Adamo non era comando non era disposizione ma era vita sua sempre quando si parla di volontà divina no? dice ma che c'è da dire la divina volontà i comandamenti li conosciamo le disposizioni della chiesa li conosciamo dobbiamo obbedire dobbiamo discernere no qui non si parla di obbedienza di discernimento queste cose sono già ben conosciute nella chiesa è guai a noi se ce ne discutiamo ma adesso la divina volontà vuole mettere se stessa non come l'effetto non come io voglio questo da te ti aiuto con i raggi della mia grazia ma ti do il vero motore che opera in me in Dio e lo metto in te nel nulla dell'umana volontà in cielo e in terra non esiste un miracolo più grande è impossibile il tutto che opera nel nulla una volontà divina che è il motore degli atti divini e quindi ha le qualità le caratteristiche dalla natura divina quando Dio opera il suo atto è onnipotente è onniveggente è eterno possiamo dire Dio ha creato tante cose magari ha creato quell'albero l'albero passerà magari si steccherà un giorno ma l'atto di Dio l'atto di Dio non l'opera l'atto quindi la vita la sua decisione il suo fiat di dire fiat albero è eterno pertanto nella divina volontà non parliamo di opere di disposizioni quelle stanno al di fuori le vediamo sono belle le abbiamo tutti i santi ci hanno insegnato San Francesco ci ha chiamato a trovare quel rapporto di sorellanza di fratellanza con tutte le cose creati ma adesso perché questo è il decreto divino perché questo è il tempo stabilito da Dio perché la creazione deve essere compiuta Dio vuole che la creatura entri dentro la sua volontà e opera e operi come opera in se stesso cioè in chi in Cristo Gesù che è la parola incarnata la divina volontà non operava in Gesù nel regime della grazia o se Gesù era ispirato la grazia è un effetto della sua volontà come i raggi sono un effetto del sole la divina volontà che è il motore che genera gli atti di Dio che sono sempre in atto è il centro della vita di Gesù vero uomo e vero Dio in lui opera la divinità allora se ad Abramo Dio disse esci dalla tua terra vai dove ti porterò mica e tu guardi si incarnerà il verbo si lascerà nella Santissima Eucaristia ad Abramo non ci avrebbe creduto poverino quindi c'è un tempo per tutto allora così come dice Gesù non vi posso dire tutto ma lo spirito vi rivelerà tutto vi porterà nella pienezza della verità pure Giovanni alla fine dice tutto quello che ha fatto Gesù non basterebbe la terra per riempire tutti i libri perché? perché i suoi atti sono infiniti Gesù stesso dice farete opere più grandi delle mie perché non si tratta di opere umane ma quando una divina volontà opera nella creatura come vita l'atto della creatura non perché è brava non perché è bella non perché se lo merita ma in virtù del dono della divina volontà come vita della creatura quest'atto è divino allora che mi conoscono che mi apprezzano che sto male che sto bene che faccio questo lavoro che sono qui che sono là questi sono i dettagli sono le circostante sono la spiga che regge i chicchi di grano in realtà l'unica cosa che conta è il grano divino qual è la volontà che anima questo atto qual è la volontà che anima quest'opera l'opera passerà l'opera può darti che avrà un indirizzo diverso da come me lo sono pensato ma qual è la volontà che opera questo atto Gesù stesso il fallimento della sua umanità fallimento di Dio nell'agonia dell'orto dice ma io la sua agonia era poi dice ma forse ho bisogno di qualche altro anno ma forse è meglio se vado in San Maria e prendo altri due o tre anni forse lì i discepoli riformerò vedi padre fatti da me questo cane figlio ti voglio molto e molto crucifisso adesso non la mia ma la tua volenza sia fatta allora non è lo sforzo non è l'effetto non è quanti siamo non è quante persone riusciamo a mettere nel pulpo ma la volontà che anima il nostro atto e quindi vivere nella divina volontà comincia dal chiamare questa divina volontà ad operare in noi come vita cioè come opera in Gesù mi ha colpito venendo in questo posto meraviglioso questo in French questo marchio per terra sulla la tovaglia dell'altare J.H.S di Oda H.S Jesus Omnum Salvatore Gesù Salvatore degli uomini c'è il marchio fai di camminare nel padio ma c'è il marchio di Gesù vai in caffè il marchio di Gesù tutto il marchio allora tutti i nostri atti devono avere come l'ostia il marchio l'ostia quella un po' di farina e di acqua con il marchio con la consacrazione voluta dalla divina volontà diventa corpo, sangue, anima e divinità allora i nostri atti come ostie come terra come farina devono essere consacrati e chi lo può fare questo miracolo? Lo può fare solo la volontà divina allora questo ci introduce sul fatto che è bello che questa giornata insieme si chiama festa del dono perché anche nelle cose sante nelle spiritualità si è sempre l'impressione che in noi si debba conquistare qualcosa si debba meritare qualcosa e dice Gesù il dono è dono se no è mercede se tu avessi fatto qualche cosa per meritartelo non sarebbe il dono sarebbe ricompensa invece è proprio fondamentale che la divina volontà vivere nella divina volontà e ricevere la divina volontà come vita e questo è un dono è gratuito non non c'è teologia morale speculativa che possa comprendere arrivare a capire come opera la divina volontà in Dio o lui ce lo rivela o lui apre se stesso e dice vieni a vedere vieni a vedere la maestà suprema mettere fuori là tutta la macchina dell'universo vieni a vedere entra nella mia umanità entra nella mia vieni a vedere come in ogni atto che facevo anche nel sonno anche nel respiro ma che fai Gesù te ne vai sulla montagna a pregare i Vangeli ci dicono delle scenette sono come dei fumetti bellissimo poi magari ci sono rivelazioni private per gli attetati come Maria Valtorta lì magari si legge molto più nel dettaglio ma i Vangeli sono la rivelazione pubblica con cui Gesù ci dice io vi do le coordinate per la salvezza cioè il Regno dei Cieli vi dico come vi dovete condurre per entrare in paradiso ma questa opera della redenzione rede o redes ritornare restaurare non è compiuta dobbiamo ritornare ai tempi di Adamo Innocente quando in lui la Divina Volontà non operava come comando lui non si sentiva sotto il regime del comando una sola prova ebbe e la perse ma lui non aveva bisogno neanche della fede noi sì ma lui avendo la Divina Volontà operante come vita in creazione aveva i doni preternaturali della scienza infusa della immortalità della integrità della salute non portava gli occhiali non si stancava non ci aveva caldo non ci aveva freddo non si ammalava immaginiamo il nostro padre Adamo come si sentì quando lui non doveva fare altro lì nel giardino e guardarsi intorno lui viveva in profondissima estasi non aveva il tempo di chiacchierare con Eva no più che la sua accompagna era la sua discepola la sua pupilla gli era stata affidata da Dio per trasmettere a tutte le generazioni iniziando da Eva questo dono allora lui il nostro Santo Padre Adamo con questa divina volontà che operava in lui come vita senza sforzo si sentiva inondato da tonnellate tonnellate di amore di grazia di conoscenza nel giardino che era a terra Dio gli parlava passeggiava con lui al fresco della sera e gli parlava gli aumentava le conoscenze di Dio e queste conoscenze lui le riceveva attraverso il creato mangiava una pesca non soltanto vedeva quanto è carina quanto è bella quanto è profumata noi vediamolo ah questa è matura questa no questo è dolce no no questa è l'opera pesca ma c'è un atto di Dio eterno atto depositato nella divina volontà che non passerà la pesca passerà l'atto di Dio chiamato pesca non passerà è un atto unico di una dolcezza particolare di una tenerezza di una vellutatezza particolare di una armonia di colori particolari e questa è una combinazione speciale dell'amore di Dio che solo l'atto pesca mi può dare allora Adamo mentre mangiava la pesca o soltanto la guardava si nutriva altro che di pesca si nutriva di volontà divina perché la volontà divina operante in lui voleva l'alimento di che? di se stessa la volontà divina mangia solo volontà divina un po' mangiare altre cose cioè io mi nutro solo di scivo di me stessa allora mi scuso se molti tra noi magari già conoscono queste cose ma per me è sempre la prima volta perché cominciamo sempre dall'inizio infatti se guardiamo gli scritti di Luisa lei comincia sempre dall'inizio non si capitalizza nel mondo ci sono i capitali allora capitalizzo ho questo quale adesso accumulo 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 ma che accumulo? la divina volontà è il capitale divino che si dà in ogni istante quindi in ogni istante l'unico atto che la terra in nulla il pugnetto di terra della mia umana volontà l'unico atto che deve fare è prendi la mia volontà danni la tua noi la nostra umana volontà l'abbiamo apprezzata a fare un sacco di cose multitask un sacco di attività siamo bravissimi nel vero e ci illudiamo di fare in realtà la volontà umana bellissima bellissima nello stato di creazione perché è ciò che ci assomiglia più a Dio oh se il filo d'erba avesse una volontà potrebbe cantare le lonti di Dio ma il filo d'erba non ce l'ha a questa che ci vada io a riconoscere l'atto filo d'erba e dico vedi volontà divina che fai questo filo d'erba sono piccola piccola mi faccio piccola sono in mezzo e pure mi faccio calpestare perché sono il tutto che ti compiace servire il nulla e poi mi faccio calpestare ma non mi spesso mi rialzo che fai a minima lontana il filo d'erba allora questo è quello che dobbiamo fare noi dobbiamo prestare questa volontà a tutte le cose create perché la creazione naturale è vivita non ci sono altre specie vedevo ieri un documentario nel Madagascar che hanno scoperto delle specie che nessuno aveva mai visto dei rettili stupendi bellissimi stanno ancora lì a catalogare le nuove specie neanche le conosciamo tutte ma la creazione naturale è finita è completa ma la creazione totale in sé naturale e spirituale è tutt'altro che completa già gli atti della redenzione gli atti di Gesù tutti gli atti che lui ha fatto sono ancora creazione sono creazione spirituale adesso manca per il covimento del regno della divina volontà che cosa? che tutto quello che è fatto in Gesù tutta la gloria che lui ha dato al Padre glielo abbiamo anche noi che lui aspetta che una creatura entri nella sua umanità per riparare in sé ciò che ha fatto nella umanità di Cristo questi atti nuovi atti divini il cielo dice ma noi gioiamo perché qui guardia ce l'abbiamo dentro Dio e ce l'abbiamo fuori che miracolo che bello che beatitudine ma attenzione guarda lì sulla terra su quel niente della terra c'è una creatura un nulla e in quel nulla piccolissimo c'è una volontà di Dio che opera così come opera in Dio miracolo sensazione alleluia se noi vedessimo San Paolo il Padre Adamo o San Giovanni il Battista o tutti gli angeli e i santi che meraviglia su popore e gloria questo quando arrivò nostra madre santissima con il tuo immacolato consentimento la creazione si rimise in festa perché finalmente Dio aveva ritrovato sulla terra i suoi innocenti trastudi quelli che mi perse nel momento in cui Adamo decise di fare a me la sua umana volontà però gli atti di Adamo quelli infatti nella divina volontà il primo periodo della vita di Adamo c'è quindi i suoi atti divini sono depositati nella volontà divina per questo Dio ha promesso subito la redenzione perché perché Adamo è parte di lui è compromesso quindi in virtù di questi atti ho una nostalgia vediamo nelle scritture il cantico dei cantici oppure il profeta c'è una nostalgia alla mia sposa che mi ha abbandonato mi ha tradito ma io la riporterò io aspetterò io farò tutto e il padre dice al figlio figlio vuoi andare ti costerà pene ti costerà tutte le pene di divine eccomi manda a me e si decreta l'incarnazione quindi già Adamo si promette questa redenzione e allora oggi noi vogliamo far felice Gesù della sua stessa felicità e vogliamo entrare continuamente già l'abbiamo fatto ma rientrare continuamente perché fondersi nella divina volontà non è un atto unico che ho fatto quattro giorni fa ed è finito ma è continuo la divina volontà come vita ha la caratteristica della continuità per esempio quando c'è vita nel corpo umano c'è il palpito se il mio cuore è palpitazzo ah bello sto palpito poi si ferma e vita no è rantolo di egonia allora la vita così come la vita naturale ha bisogno della continuità del respiro della palpito della circolazione del sangue ed è come tutto è uno e trino tutto è uno e trino adorazione continua nel respiro amore intenso nel palpito gloria circolazione della gloria perenne nella circolazione del sangue così pure perché questa vita divina sia vita divina nella creatura ha bisogno della continuità e quindi noi possiamo la vita nella divina volontà è vita continua quindi non esiste un atto nella divina volontà che possa deve essere preceduto da un altro atto nella divina volontà e seguito da un altro atto nella divina volontà per cui la continuità è importante per questo Gesù ci chiama all'attenzione per questo non ci vuole ratire con le conoscenze ci vuole eglissare così come la nube calava sull'accampamento degli ebrei e loro di là non si muovevano nel deserto fino a che questa nube non si alzava e ci vai pure noi vogliamo essere eclissati adombrati da queste conoscenze da questa eclissi della divina volontà affinché non ne possiamo proprio più fare a meno ne parleremo meno magari ma diventerà il nostro respiro non avremmo bisogno di tante opere eterne oppure delle opere eterne che ci davano tanta soddisfazione o ci facevano sentire soddisfatti nel cammino spirituale Gesù ce le farà sembrare indifferenti quasi noiose ma che è successo Gesù mi stai cambiando tutti i gusti provava tanto gusto in queste cose tante perché regnare vuol dire regnare da solo a regnare Gesù in tutti gli atti nostri e sponderci nella divina volontà quindi entrare nella divina volontà vuol dire entrare nella connessione nell'anello di congiunzione tra divinità e umanità quest'anello che è la parola incarnata è Gesù se il verbo non si fosse fatto carne non ci sarebbe stato alcun modo per unire l'umano con il divino perché Dio ad eterno Dio creatore decide di comunicare se stesso al creato e trasmettere se stesso ai suoi creati attraverso la parola e chi è la parola? Gesù Cristo vero uomo e vero Dio e lui vivere nei diviniti per questo per questo dobbiamo passare per forza in noi entrare in due allora per tanti millenni un paio di millenni ci siamo sforzati di conoscere attraverso tante tantità dove la chiesa ci ha posto come modelli come un puzzle no? c'è questo pezzettino c'è questo spalto c'è la montagna c'è la spalla di Gesù c'è il cuore la devozione della spalla e poi le chiaghe e poi il cuore e poi i piedi e poi la parola e quindi i predicatori piuttosto che i tenitenti piuttosto che gli attivi piuttosto che i contemplativi questi sono parti della umanità di Gesù immaginiamo cosa sia tutta la umanità di Gesù e per poi entrare dentro la sua divinità ed scoprire non solo scoprire ma operare con questa sua stessa divinità divina volontà che opera in lui e questo è dono non è conquista quindi non abbiamo meritato nulla allora Gesù vieni vieni più prendi e più mi fai piacere vieni vieni a prendere questo dono è anche vero che questo dono deve essere conosciuto apprezzato perché se io dice Gesù metto una banconota da un milione nelle mani di un bambino che fa lui la strappa non conosce il valore allora più conosco il valore di questo dono tramite le conoscenze che diventano miei atti e più non ne posso fare meno diventa vita mia per questo le conoscenze sono fondamentali ora per conoscenze che intendiamo no? scienze umane tomi dottrine non lo so punti particolari ti ringrazio padre santissimo perché perché hai piccoli anche ignoranti hai gli stupidotti hai rivelato le meraviglie del tuo re mi è capitato di andare a trovare in vari posti del mondo nei posti nelle baracche di manila negli scuoti di manila con il fango fino alla una le ginocchia oppure in posti dove regna magari la povertà l'ignoranza umana ecco la povertà di spirito è lì è lì la divina volontà regna più facilmente si può far comprendere più facilmente ed è compresa più facilmente allora Gesù vogliamo entrare nella tua umanità ponderti ancora una volta e Gesù dice solo il ponderti nella mia umanità parte per parte e prendere in te e ripetere gli atti che la mia divinità faceva nella mia umanità solo questo riordina riequilibra tutte le riparazioni abbraccia tutte le creature fuori non si vedrà nulla non hai necessariamente un uniforme un abito non hai un titolo particolare non fai parte della gerarchia di un ordine no stai lì a coltivare l'orto sinergico a cogliere la lavanda eppure dice pondite nella mia umanità quest'atto essendo atto divino animato dalla mia divina volontà riempie c'è la terra di adorazione Gesù faceva sempre tre cose in ogni suo atto prima gloria al padre ti ringrazio padre padre mio in lui tu mi hai dato tutto io ti ringrazio in nome di tutte le greche poi cosa faceva diceva vedi vedi questi questi miei fratelli loro magari non lo fanno lo faccio io per loro riparo io riparo io tutto quello che loro non ti danno lo faccio io vuoi le pene? chiedi vuoi lacrime e sangue? chiedi vuoi una morte per ogni peccato di creatura? sono qui l'eterno agnello riparo e poi che fa? in virtù di questa riparazione divina dammi il regno lo chiedo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo è decreto divino e quindi unendoci alla preghiera di Gesù noi lo otteniamo dobbiamo noi visualizzare o misurare gli effetti o decidere che il regno verrà quando viene canonizzata l'unica piccarreta o quando no liberiamoci da queste cause seconde dobbiamo stare nell'atto primo entriamo dentro la vita degli altri le opere sono taglia dice Gesù ai scritti di Luisa io di opere ma guarda quante opere ho fatto ne ho fatte abbastanza di opere non me ne servono più io voglio moltiplicare la mia vita allora il vita è nella divina volontà ovviamente non è un movimento non è una devozione non è neanche una spiritualità la spiritualità di Gesù no è vita divina nell'anima è il compimento della creazione o anima che vivi nel mio volere per te tutto si copia con te tutto viene riunificato tu sei il solo scopo della creazione tu sei il vero compimento della redenzione e se tu per debolezza mancarsi io per onore e gloria della mia volontà ti supplirò in tutto quindi non abbiamo neanche il diritto di lamentarci delle nostre miserie perché io non ce la faccio perché io non sono dei non immaginiamoci se fossimo degli quindi non riceveremo il dono perché sarebbe una mercedia una ricompenda una dignità allora Gesù non riesco non riesco ad andare avanti se prima non mi fondo nell'umanità di Gesù 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte al giorno perché è perché in Lui troviamo la fonte degli atti allora qui dal titolo se avete voglia oggi come abbiamo fatto in altre occasioni vogliamo entrare in questa divina volontà entrando nell'umanità di Gesù e seguire ripetere in noi quello che Gesù ha fatto in particolare seguiremo Gesù in alcuni degli atti luminosi scritto atti luminosi perché per semplicità abbiamo questa potentissima catena lo strumento meraviglioso del Santo Rosario che nostra madre tantissima ce l'ha data per ci ha aiuta a combattere le distrazioni ci ha aiuta a focalizzarci sui frutti le virtù ma in realtà questa catena ha una valenza e una potenza ancora più grande ci serve per unire passo passo in modo sequenziale la nostra volontà a quella divina perché lui regge quindi tutti gli atti quindi non soltanto possiamo fare gli atti gli atti della creazione ovviamente gli atti gioiosi gli atti dolorosi gli atti luminosi che ci ha donato Giovanni Paolo II ci ha fatto comprendere che possiamo estendere quanti altri non so possiamo meditare nella divina volontà dobbiamo entrare in tutti questi atti ed atti gloriosi quindi la catena del Santo Rosario ci aiuta perché siccome noi non siamo nell'atto unico siamo in un ambiente ad extra che è cambiato dal tempo e dallo spazio siamo in un'atmosfera in un ambiente sequenziale uno due tre quattro cinque possiamo fare atti sequenziali invece in Dio nella sua volontà entrando nella sua volontà troviamo l'atto unico fin che siamo sulla terra a meno che il Signore non ci chiama in estasi non ci chiama in quel momento di luce quando tutto sparisce entriamo nella luce della divina volontà o ci da doni particolari non possiamo avere la percezione dell'atto unico la generazione del verbo la procedenza dello Spirito Santo il decreto dell'incarnazione la creazione tutto quello che ha fatto Gesù la santificazione in Dio è tutto un atto atto unico che si rispiega per noi in tanti atti per farci ricapire non importa se gli servono millenni per farci doni lui arriverà però entrando già in questa divina volontà quando siamo qui in terra noi già entriamo nell'ambito dell'eternità pertanto immaginiamo questa divina volontà come un contenitore un contenitore di tutti gli assi di Dio questo ambiente è il contenitore di tutti gli atti di Dio qui c'è l'aggressione dell'uomo qui c'è l'immacolato concessimento di Maria qui c'è l'eternità di Gesù la passione di Gesù l'assunzione di Maria Santissima l'istituzione dei sacramenti tutti gli atti e le ispirazioni dello Spirito Santo tutti i modi di santificazione che fa lo Spirito sono tutti in questa divina volontà e quindi vivere nella divina volontà può dire entrare in questa volontà divina è come dire sostieni con la cannuccia unirci uno per uno ma dicono come faccio a incerire tutto l'ossigeno che c'è in questo ambiente impossibile allora vado un pochino alla volta non importa dove inizio di qua di là l'importante è che io sto dentro perché il velo della divina volontà che ha la proprietà dell'unità vuol dire che la parte contiene il tutto e il tutto contiene la parte parliamo uno scienziato sulla terra dice ma dove vai facciamo l'esempio quando abbiamo girato nei mari di Maria Santissima mi pare qualche mese fa è come entrare in questo mare dove c'è una goccia apro la goccia che c'è dentro la goccia tutto il mare questo è il bene basta che sto dentro la divina volontà sono il tutto il problema dell'uomo è risolto perché il problema dell'uomo è la scartità delle risorse no? pare che il tempo non basta mai lo spazio non basta mai voglio fare il bene A però non riesco a fare il bene B allora come faccio? cosa discerno? sto qui o vado là? allora Gesù dice che entra nella mia vita? è una volontà unisciti agli atti miei e stai nel tutto e questo era facile qualsiasi circostanza della tua vita non devi aspettare che ti verifichi nessuna circostanza alcuna circostanza noi mettiamo le condizioni diciamo sì però devo prima trovare casa e poi ci no adesso entri nella mia vita adesso e quindi troviamo tutti gli atti di Gesù e oggi in particolare vogliamo unirci ad alcuni degli atti dell'inizio della vita pubblica di Gesù per dirlo in modo semplice no? è come se volessimo pregare insieme utilizzando una terminologia diciamo del regno della redenzione pregare i misteri del santo rosario qui vogliamo entrare altro che misteri il mistero è l'atto divino l'atto del battesimo di Gesù l'atto delle nozze di canto preghiamo insieme e lo sminuzziamo dettaglio per dettaglio un passetto alla volta e magari ci mettiamo due ore abbiamo pregato i primi due misteri del rosario luminoso però anche questo girare e utilizzare gli strumenti che la santa chiesa ci dà proprio per che tutto è giro nella divina volontà la santa messa è il giro nella divina volontà la santa messa è entrare nell'umanità di Gesù nella sua incarnazione la parola la redenzione la passione morte e risurrezione di Gesù altro che assistere alla santa messa ci mettiamo a partecipare a partecipare con Gesù dicevi Gesù e si legge il Vangelo e dice Gesù questi sono atti tuoi sono atti miei Gesù ci uniamo con gli atti di Gesù stiamo dentro all'ossia con Gesù per questo non c'è non c'è problema di ruoli nella divina volontà ognuno sta al suo posto ma tutti possono fare tutto la donna è donna l'uomo è l'uomo il sacerdote è sacerdote ognuno ha il suo posto così come nella creazione ogni cosa creata sta al suo posto eppure tutti possono partecipare agli atti di tutti questa è la vera comunione non solo dei santi in cielo ma degli atti divini in terra quindi mettiamoci in quest'anno entriamo in quest'anno all'ità di Gesù diciamo ma come non sei convinta che ci sei entrata Gesù lo voglio talmente tanto che lo voglio vieni Gesù vieni tu a pensare in me vieni tu a ricordare in me vieni tu ad operare in me ecco che le tre potenze dell'anima intelletto memoria volontà io le abbandono le sottometto le fondo nelle tue Gesù vieni tu ad operare divinamente con la tua mente divina affinché possa dare gloria divina al Padre come la dai tu e ringraziarlo in nome di tutte le creature e per tutta l'opera della creazione mentre mette fuori tutta la macchina del creato vieni Gesù a ricordare in me ricordare non potete necessariamente portare la mente ma io ho una cattiva memoria no ricordate la memoria divina è la onniveggenza perché in Dio Dio non ricorda cioè in Dio tutto è in atto però per lui la memoria è importantissima perché la memoria vuol dire mettere l'attenzione io posso avere il tema della conoscenza ma se non lo vado a prendere se non lo innappio dice la memoria è come l'umidità sul temino la memoria è come mettere le conoscenze ognuna nel proprio nella bacheca in ordine la memoria è riportare la memoria è entrare nella onniveggenza di Dio per questo nostra madre tantissima diceva io figlia mia tutti i miei atti erano animati dalla divina volontà io non persi memoria di nessuno dei miei atti come faceva non erano mai timidi sono in atto quindi ricordare vuol dire abbracciare tutto quello che è inato e poi ti ultima la mia volontà Gesù sperdi la lei la tua dammi la tua volontà per vivere e questa opera di santificazione questa opera che ci unisce all'umanità di Gesù chi la fa? il grande innominato il grande la la perfezione delle perfezioni la fornace ardente della carità di Dio lo spirito santo l'opera di Dio se Gesù parola è la manifestazione del padre chi è che ci incarna in questa parola? chi è che ci fa gridare Abba padre? chi è che ci fa sentire Dio come padre? chi è che ci mette dentro Gesù? è lo spirito lo spirito di Gesù lui per questo dice me ne devo andare figli miei se non non vi posso mandare il paracchio allora pare che lo si nomina poche volte ma lo spirito santo è lui è lui l'autore è lui il protagonista di questo terzo fiat dove nella creazione padre figlio e spirito santo concorrono ma sembra che il padre padre creatore ha ruolo del protagonista figlio fiat luci poi nella redenzione l'eternità entra nel tempo la seconda persona prende carne e lui il protagonista vero uomo vero Dio Gesù ma il padre e lo spirito concorrono a tutti i suoi atti nell'opera della santificazione il terzo fiat che è compimento delle due reazione e redenzione è lo spirito santo che ha il ruolo da protagonista ma lui è silenzioso perché opera opera quando opera opera nel buono no opera nel terremoto no come Elia no il fuoco il tuono il terremoto ma no non c'era Dio poi quella prezzolina lo spirito santo opera nel silenzio questo vivere nella divina volontà è per forza un vivere nascosto vivere silenzioso dice Gesù l'umano tace non ha vocaboli equivalenti per acclamare il trionfo della divina volontà mentre nella creazione noi io ho dovuto cominciare dall'inizio per manifestare queste volontà prevale vediamo la materia no nella redenzione il regime della grazia però abbiamo ancora bisogno dei segni dell'acqua dell'olio abbiamo ancora bisogno degli segni esterni nel regno della divina volontà scordiamocelo ecco è lì ecco è là no non è lì è là è dentro di voi quindi man mano che ci avviciniamo al compimento del regno della divina volontà come vita della creatura cresce l'interiorità lo spirito e il nascondimento perché è vita è vita divina e quindi tutto ciò che è in materia serve da spia per reggerlo non è una vita di opere le opere sono di più strumenti e quindi sempre di più per esempio Gesù ci ha messo di fronte al paradosso Luisa Luisa poteva essere fondatrice di ordine poteva fare qualche opera grande no ci ha messo di fronte al paradosso di una vecchietta sventata dentro di un letto che neanche da sola può andare nel bagno no neanche mangia niente può fare e la portano la mettono di qua ogni tanto una volta all'anno dovevano la lana del letto la dovevano rifare la piazzavano su una sedia così che non ci venga il dubbio ci ha messo di fronte il paradosso non ci venga la tentazione di pensare che sia una vita una santità di opere particolari no c'è posto per tutti c'è posto per Luisa che non ha fatto niente di esterno eppure tutto faceva nel suo interno vola colomba mia entra nella mia divina volontà corri per tutti gli atti della creazione metti il mio tuo amo a nome di tutta la famiglia umana ho bisogno che tutto quello che sta fatto in me Gesù adesso venga fatto in una creatura ovviamente sta fatto già in Maria ma in una creatura di firme comune cioè nata con peccato originale affinché questo regno perso da padre Adam possa essere tramite il prototipo il primo atto la prima creatura essere dato a tutti quelli che lo vogliono quando Dio fa opere universali le fa sempre a tutti per tutti creò un uomo creò Adam Eva non fu creata Eva ve ne tratta da Adam la creazione dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Gesù Cristo ovviamente la incarnazione del verbo una volta si incarna dove nel seno originale purissimo di Maria Santisi adesso la santificazione non prende un gruppo di persone no dice devo fare un'opera dice lui sapessava della sua missione era quella di stare nel letto magari le stima si ma tieni me le nascoste io mi vergogno poi deve venire il sacerdote per farla uscire da quello stato di rigor mortis una omiliazione terribile perché non veniva magari creduta e gli dice ma Gesù non si può sboggere tramite questa vota perché dobbiamo coinvolgere gli altri che poi non ci vogliono venire dicono questo si può far chiedere una tantarella eccetera eccetera l'ha messa proprio in una situazione bruttina dice e lei pensava dovesse diciamo soffrire adesso per la grandine a coraggio adesso per la guerra tra l'Italia e l'Africa adesso per la leggera eccetera dice no figlia mia tu pensavi che questo potrebbe sottivittimato no io ti ho chiamata ad un'opera ben più grande tu devi essere il capo simile della santità del vivere nel vivimbulere che non è la santità di santo eccetera ma è la santità della mia umanità per questo e qui dovrei spegnere il registratore perché potrei dare il scandalo è difficile che lui sarà canalizzata dovrà essere sarà sicuramente riconosciuta nella Santa Chiesa ma in che cose nuove cose nuove il processo di beatificazione si basa sull'analisi dell'esercizio delle virtù eroiche della creatura virtù umane stiamo parlando di un altro motore stiamo parlando di un altro motore dove si ferma la santità umana lì inizia la santità divina ma quando è una conquista è un merito in più che no è un dono solo per lui da no per noi per tutti per la Santa Chiesa quante belle sorprese una volta qualcuno chiede a Luisa ma Luisa ma quando è che ti faranno santa e lei rispose sempre ermetica con le tenaglie di tirare fuori le parole a Maria Luisa disse rivolta in cielo rivolta in terra rivolta nel senso di rivoluzione rivoluzione cose nuove la celeste Gerusalemme che scende celeste è importante non metterci e intiene non in questa consapevolezza e poi è tanto vero che ho chiamato te per prima che a nessun'altra anima per quanto a me cara ho manifestato il modo di vivere nel mio volere gli effetti di esso le meraviglie i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo riscontra quante vite di tanti vuoi o libri di dottrine in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante come vita nella creatura la creatura operante nel mio al massimo troverai che cosa la rassegnazione abbiamo visto qualche mese sanno le diverse attitudini che ha l'umana volontà verso la divina la ribellione uguale inferno cioè vuol dire sono in inferno quando mi metto a lottare contro la volontà di Dio oh che tristezza che brutto poi mi rassegno già va meglio c'è già un passo avanti perché ti rassegni? eh perché è volontà di Dio non la posso cambiare c'è un rassegno perché riconosco che c'è una potenza superiore che è più forte di me c'è già va bene dai è meglio poi c'è un'attitudine ancora superiore dice non soltanto mi rassegno ma mi conformo mi conformo vuol dire non soltanto l'accetto perché non ci posso fare niente ma riconosco che questa volontà che tutto dispone ne sa più di me c'entra l'umiltà ne sa più di me vuole il mio bene e quindi io lo accetto inizio ad amarlo conformità inizio a stagliare la santità la santità non è altro che una scesa nel rapporto che l'umana volontà ha con la volontà di Dio conformità poi non scendiamo nei dettagli conformità verso uniformità non è necessario questo dettaglio dopo la conformità c'è qualcosa di più? sì abbandono meraviglioso ancora prima che mi succeda quello che mi deve succedere signore sì fai di me quello che vuoi sì mi abbandono ci sono capitoli e capitoli e capitoli in cui Gesù parla dell'importanza e della bellezza e dell'abbandono nella divina volontà e io pensavo no nella mia ignoranza penso abbandono penso a questo atteggiamento passivo dico ah ah dice Gesù volume 12 l'altro giorno diceva figlia mia lo sai che cos'è l'abbandono è come due torrenti infetuosi che ti riversano l'uno nell'altro e fanno delle onde degli spruzzi che vanno fino in cielo e bagnano tutto l'abbandono l'abbandono che cosa vuol dire l'umana volontà che ti abbandona nella divina la potenza della della Dora Baltia nella Dora di Paria ho capito lei il vero abbandono altro che atteggiamento passivo il diat mini di Maria altro che atteggiamento passivo si scatena la potenza del divino e quindi infatti dice per girare nella divina volontà non ci vuole la preparazione l'attività abbandonati faccio io e quindi nell'abbandono quindi nella fiducia nell'atto più eroico che l'umana volontà possa fare l'unico atto eroico chiamato a fare è quello di darsi preda alla divina dice Gesù in ogni istante io mi davo preda al padre mio e il padre mio c'è il padre che fa mi istruiva mi proteggeva mi guidava io non parlo per per mia autorità io dico le parole del padre io non faccio le mie ore io faccio quello che devo fare al padre il padre è sempre con me dice Giovanni perché io faccio ciò che a lui piace il padre mi ha dato tutto Gesù è abbandonato nel padre e questo scatena la potenza della divina con il padre l'abbandono addirittura poi c'è l'unione l'unione si parla delle santità bellissime dello sposalizio mistico questi esempi bellissimi pensiamo a una materina da Siena pensiamo a questi bellissimi esempi di unione di volontà umana con la divina dove l'umana volontà si mette a fare quello che fa la divina se ti copio paro paro adesso Gesù dice sì però non copiarmi soltanto entra in me il motore te lo do io di modo che la generazione degli atti sarà generazione divina in virtù della divina volontà operata in te e questa è la funzione che è un dono avevo visto nel programma che diceva 9, 10 e 30 per cui adesso ci chiediamo e ci prepariamo ad una prossima meditazione e poi nel pomeriggio se volete giriamo negli atti luminosi con Gesù ok? grazie 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 grazie